Giorno! Ok, allora, stiamo lavorando in maniera importante ragazzi su tutti quei concetti che ci aiutano a raggiungere la nostra autorità. Questo è molto importante. Ieri abbiamo lavorato concludendo su tutta una serie di concetti che sono straordinari, oggi li portiamo avanti. E' molto importante ragazzi il fatto che voi comprendiate che veramente non esiste nessun tipo di settore differente, settore particolare, settore strano, ma da me eccetera eccetera. Dovete solo trovare il modo di prendere una serie di informazioni e adattarle in maniera tridimensionale in realtà al vostro settore. Perché l'autorità nasce in realtà dal ragionare in maniera tridimensionale. Come si ragiona normalmente? Adesso vi faccio un esempio, no? Se voi ragionate in maniera bidimensionale, ragionate così, ok? Quindi solo su due dimensioni. Diventa un problema nel senso che ragionare su due dimensioni è questo è il mio lavoro, io faccio questo di mestiere, io vendo questo e quindi adesso io devo farci marketing, tra virgolette, lo devo vendere, devo proporre questa cosa. Quindi la domanda è come faccio a proporre questa cosa che io faccio, che io vendo. Questo certamente è una domanda importante, ma la risposta spesso è sbagliata perché si cerca costantemente di fare una promozione eccessivamente diretta e non si riescono a vedere in realtà tutte le infinite possibilità che in realtà il mondo della vendita, del marketing professionale ci offre. Perché? Altrimenti io mi blocco su quello che faccio e non faccio nient'altro che cercare di comunicare quello che faccio al mercato. Quindi magari nella mia ingenuità, nel mio buon senso, nel mio cercare di fare le cose fatte bene, magari mi trovo in una web address e gli dico questo è il problema, no? Dico io faccio questo, tu fammi il marketing, fammi le campagne, tu dillo, ok? Io faccio questo, tu dillo, trovami i clienti, quindi la web address si mette lì, cerca di fare degli annunci nel quale dice ci sono questi tizi che fanno questa cosa, vi interessa? Eh, non è qualcosa di straordinario tendenzialmente, ok? Si fa fatica, si fa fatica anche perché in molti settori, per esempio, ragionando bidimensionalmente, molti settori sono delle commodity, quindi non sono nemmeno particolarmente entusiasmanti o particolarmente interessanti, quindi con il marketing si fa fatica, quindi se non ci inserisco niente di quello di cui parlavamo nei primi due giorni del corso, faccio fatica, se non c'è una personalità trainante, se non c'è una personalità che diventa celebre anche per altri motivi, si fa fatica a creare quel passaparola, quell'interesse, quella curiosità intorno a quello che faccio, ok? Perché ci sono alcune cose che sono interessanti, altri settori che sono meno interessanti. Addirittura questa strategia in molti settori è completamente perdente perché è non autorizzata. A seconda dello Stato, siamo in Spagna, la maggior parte di noi in questo momento sono italiani, ma abbiamo ragazzi dalla Francia, abbiamo ragazzi dal Brasile, abbiamo ragazzi degli Stati Uniti, e a seconda delle leggi statali nei quali io mi vado a confrontare, sono alcune discipline che non sono pubblicizzabili, ok? Per esempio negli Stati Uniti è possibile fare pubblicità in maniera molto diretta, come ti pare per esempio per gli avvocati, da noi no, da noi è completamente vietato, cioè ci sono tutta una serie di professioni, per esempio, che sono tutelate dagli ordini, eccetera, eccetera, psicologi, avvocati, medici, biologi, detisti, dove se esci fuori da quelle che sono le norme molto, in alcuni casi proprio non si può fare, in alcuni casi sono degli ordini, professionali che hanno delle norme così stringenti, dove il marketing fai proprio fatica a farlo, perché non puoi promuoverti, appena dici una parola di troppo scattano le reprimende degli ordini, eccetera, 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 quindi questa strategia è difficile in molti casi, molto costosa, molto poco lungimirante e tendenzialmente in alcuni casi è vietata e in altri casi è perdente di suo, perché proprio non si può fare. Frank Merenda è l'uomo che ha stabilito un record dopo l'altro nella formazione per imprenditori, autore di best seller come vendere fa schifo se non sai come farlo, le sette leggi del marketing per il ventunesimo secolo e 50 colpi di Frank, creatore del Merenda Monthly, l'unico mensile dedicato agli imprenditori. Migliaia e migliaia di imprenditori frequentano ogni anno i suoi corsi, rendendolo a tutti gli effetti uno dei più seguiti e pagati formatori in tutto il mondo. Ha testato le sue conoscenze in centinaia di settori e con migliaia di aziende. Ha lavorato fianco a fianco con diverse leggende del marketing mondiale. Ha letteralmente cambiato il tessuto imprenditoriale, portando nelle sue aule imprenditori da tutto il mondo. È arrivato a riempire un palazzetto dello sport con 5136 persone, pronte a studiare e cambiare le loro attività. Ha costruito in Svizzera il primo e unico centro studi per imprenditori in Europa. Tutto questo è Frank Merenda. E in questo canale di YouTube hai la possibilità di seguire in modo completamente gratuito le sue lezioni. Iscriviti ora per non perdere nemmeno un video. Vi faccio un esempio concreto, anche perché c'è Andre che ieri mi ha regalato il libro che gli ho fatto fare, finalmente è arrivato stampato, vi faccio vedere questa cosa. Questo libro è di Andrea Cavallaro, uno dei miei studenti. Si chiama Quel che resta è l'amore, il primo libro sul lutto scritto da chi lo vive tutti i giorni per aiutarti a ritrovare la serenità. E che fa di mestiere Andrea? Fa il becchino. Cioè no, ha un'agenzia di onoranze funebri. Andrea ha un'agenzia di onoranze funebri. Allora voi provate a pensare come faccio a fare marketing io, lui ha detto ma io il mio settore è differente perché io ho le onoranze funebri, non posso fare upselling e cross sell, non posso rivendere agli stessi clienti perché Porello c'ha ragione Andrea, la prima volta che è arrivato, c'aveva un po' di ragione, non aveva tutti i toglie, io che cazzo gli rivendo a questo è morto, non è che lo posso resuscitare. Andrea quindi mi guardava perplesso la prima volta, ha detto Fra è tutto bellissimo quello che dici, ma il mio settore è differente perché io faccio il becchino, io ho le onoranze funebri, ok? E allora esiste per esempio un modo bidimensionale, cioè io come faccio a fare un marketing emozionante per le onoranze funebri? È un problema per tutta una serie di motivi, al di là che sono tutta una serie di tabù sociali, la morte è comunque un tabù, si fa fatica a parlarne, come fai? Diventa complesso. In più il lavoro di Andrea è estremamente complesso perché normalmente non è che ci sia una preparazione, cioè quando ti muore un caro tu, a parte che magari sei anche devastato, tutta una serie di problemi, in più veramente c'è la mafia tra quello che quando arrivi alla camera ardente, cioè è un mondo veramente molto molto brutto, quindi quando ti capita di essere chiamato è un mondo veramente dove sono delle regole anche poco corrette, cioè si può anche dire, è veramente un posto di banditi in realtà, cioè sulla morte ci lucrano in una maniera anche abbastanza poco simpatica, quindi quando ti capita di dover essere chiamato, cioè non fai in tempo a fare marketing, non è che mi muore un caro e io vado a, cioè sono influenzato dal marketing, cioè sono in una situazione anche psicologica abbastanza pesante, abbastanza devastata, quindi sono arrivato molto tardi, cioè l'agenzia funebre arriva sempre troppo tardi, cioè chi si interessa prima, chi è che guarda i cataloghi, scusate, delle bare o dei centri, chi cava affanculo, cioè con tutto il rispetto per andare, Cioè nel senso, ma c'ha ragione, è così però, uno italiani, mi tocco i cocones, perché quello posso fare, quello posso fare, quindi è impossibile fare marketing bidimensionalmente, veramente per un'agenzia funebre, almeno che tu non faccia, per esempio in Italia abbiamo un esempio abbastanza stupido, di marketing per le agenzie funebre, fatto così, cioè noi facciamo l'agenzia funebre, non so se qualcuno di voi, probabilmente online, avrà visto le varie campagne virali di taffo, possibile? Ok, se le avete viste fanno quelle cose di assoluto cattivo gusto, tipo adesso hanno fatto una campagna orrenda, per il giorno sulla violenza delle donne, o sei taffo, oppure c'era la cassa da morte, ma è una roba bruttissima, è una roba che non si può guardare, però sono molto virali, cioè a livello di quando il primo giorno vi parlavo degli influencer, cioè loro ovviamente, scrivendo con immagini provocative, facendo provocatorie, dicendo cazzate, vengono ripostati e ricliccati ovunque, su Facebook, sui vari social, su Instagram, eccetera, ma in realtà poi se vai a vedere il bilancio, non è che sottiscano questo grande effetto, ma in realtà oltre che essere particolarmente di cattivo gusto, non è che se io, cioè nella mia vita, ho in testa te, perché fai le battute brillanti sui social, quando mi muore un mio caro, c'è un motivo reale per venire da te, è semplicemente un, cioè dire che esisto, magari non perfettamente sempre di, in linea con il sentimento di una persona che sta avendo un lutto, cioè magari fare il simpaticone con uno che gli è morto qualcuno, non è il massimo della strategia, poi a me non mi interessa, non seguo io le campagne, non c'entro niente, fanno quello che gli pare, il social media manager gli ha chiesto quello, fa bene a farlo, perché ottiene like, condivisioni, share, eccetera, eccetera, secondo me non è il modo corretto di fare marketing, e anche perché, come spiegavo prima, anche se la tua cosa mi strappa una risata, finché non ho il problema, quella cosa non mi tocca, e quando ho il problema, il fatto che tu avessi la pubblicità più o meno simpatica, non c'è un posizionamento, non c'è un perché dovrei comprare a te, è perché quello è quello che fa lo scemo online, non è questa grande motivazione, soprattutto nel momento in cui io sono in questa condizione. Allora io ho preso Andrea, è venuto da me, ha detto cosa devo fare come taffo, ho detto no, ti ho una testata in testa la prima volta che ti devo fare un lavoro del genere, devi fare un'altra cosa, ok? Allora innanzitutto dovete sapere che tutte le, non è possibile vietare, per esempio l'altro giorno avevo anche un altro ragazzo, è venuto da me, lui si occupa di, abbiamo un'altra cosa, il gioco d'azzardo, la pubblicità in Italia è ferocemente scoraggiata, impedita da Di Maio, il governo, eccetera, c'è proprio le leggi, non c'è l'ordine professionale lì, ma è qualcosa che è estremamente normale, ma non c'è, per tutti coloro che hanno problematiche legate a ordini o leggi statali eccetera eccetera, che gli impediscono di fare marketing, è impossibile impedirvi di scrivere libri, per esempio, cioè voi non potete fare pubblicità direttamente alla vostra attività, ma nessuno può impedirvi di fare pubblicità a voi, come esperto di qualcosa, o come persona che vuole parlare su un argomento, io non posso fare magari pubblicità alla mia azienda, ma di me come esperto posso parlare, questo è il come bypassare tutti i limiti professionali, che siate un dentista, che siate quello che vi pare, non c'è nessuno che vi può impedire, né di scriverli, ma nemmeno di fare video, per esempio, e non potete farvi un video pubblicitario, per la vostra pubblicità, con la call to action, e quindi compra qui, ma potete fare tutti i video che vi pare, scrivere tutti i libri che volete, per creare autorità, rendendo voi un'autorità sull'argomento, che ricevendo quel tipo di visibilità, fama, eccetera, eccetera, poi comunque si fa pubblicità di sponda, questo è il trucco, tra virgolette, da utilizzare con il marketing, quindi, se ragionate bidimensionalmente, non funziona, e allora io sono entrato un po' nel dialogo mentale dei clienti, ho detto Andrea, guarda, tu devi fare una cosa, in realtà noi i clienti, li dobbiamo andare a prendere, quando in realtà, stanno cominciando a pensare al problema, allora, tranne le persone, sulle quali non riusciamo a intervenire, nel senso, le morti per esempio per incidente, quindi è una morte improvvisa, per la quale nessuno è preparato, ma moltissime morti in realtà, la maggior parte delle morti, avvengono come decorso, tra virgolette, di problematiche di salute, quindi o ha un incidente mortale, oppure sta male, e nel tempo, tra virgolette, arriva ad avere dei problemi, a spegnersi, in tutto questo momento, ok, abbiamo notato che ci sono un sacco di ricerche, ma anche senza verificarlo online, è ovvio che le persone, ci sono un sacco di ricerche di persone, che cercano di capire, come avvicinarsi al momento del lutto, al momento di dover lasciare, quindi come superare il lutto, come avvicinarsi al lutto, come gestire la perdita, eccetera, eccetera, questo è un argomento molto importante, allora io ho detto, Andrea, tu devi smettere di pensare, di essere un'agenzia di onoranze funebri, non riusciamo a fare pubblicità, la bara migliore con legno, non riusciamo a fare pubblicità, il servizio con la macchina, di che cazzo parliamo? Non riesci a fare marketing, su quella roba lì, ok, cioè si può fare, ma non è, non c'è niente da inventare, su quella roba lì, ho detto, guarda, tu devi fare un'altra cosa, tu scrivi un libro, ok, ti metti insieme a degli psicologi specializzati in questa tematica, scrivi un libro per queste persone, facciamo in modo di distribuirlo nei canali dove queste persone si trovano, spesso volentieri negli ospedali, nella tua zona, a livello locale, dove possono trovarsi delle persone, quindi lasciamo gli opuscoli, mettiamo gli standini, eccetera, eccetera, stand up, e in particolare facciamo campagne di promozione per questa associazione, sei tu, la psicologa, eccetera, eccetera, dove organizziamo gratuitamente, e senza nessun, né secondo, né terzo fine, delle serate di informazione per queste persone su questo argomento, in modo che queste persone arrivano e ricevono, tra virgolette, gratuitamente, tutta una serie di informazioni su come gestire il momento grave, il momento del lutto, eccetera, eccetera. Quando tu sei entrato, sei a livello locale, perché lo fai nella zona, il marketing lo puoi fare, eccetera, eccetera, diventi famoso con questa associazione, volontariato, combatti per questa causa, eccetera, eccetera, la gente si chiederà anche chi sei, secondo te, questi, visto che li prendiamo nel momento intelligente, quando ancora si stanno preparando, questo è un modo di fare marketing, perché ovviamente tu sarai la prima persona che gli verranno in mente e in quel momento li hai desensitivizzati alle problematiche di prezzo, a qualunque cosa, non sono più importanti, perché tu per loro sei diventato in maniera assolutamente pulita un punto di riferimento e se loro penseranno a questa cosa, ovviamente nel momento del bisogno diventeranno tuoi clienti. Questo è un modo di creare, invece che fare le taffate, è un modo, quindi vado dalla web agency, social media minchia, mi faccio fare le stronzate online, questo è un modo di ragionare in termini professionali, in termini di, ma però bisogna essere un po' intelligenti per fare una cosa del genere, bisogna essere in grado di ragionare in maniera tridimensionale, devo aggiungere una terza dimensione al mio marketing, mi serve la capacità di vedere che esiste un'altra dimensione dietro al mio marketing. Questo è un modo di ragionare tridimensionale, questo vi permette di riuscire a fare marketing in una maniera per il competitor non c'è difesa, perché sulle vostre campagne dirette uno può parlare, ma se voi create un modo completamente diverso di pensare alla vostra azienda o altre persone, dove per esempio gli ho fatto aprire persone che si occupano di investimenti, quindi propongono investimenti, gestione dei portafogli, delle persone, investimenti in azionario, materie prime, eccetera, eccetera, tutto, insomma, ok, gestire portafogli di persone abbienti, ok, quindi con un mix tra immobiliare, diamante, che cazzo ne so. Gli ho detto, guarda, è un problema anche perché ci sono tutta una serie di vincoli nel fare pubblicità in questa maniera, ma al di là di quello sei comunque sempre un percepito come un venditore, cioè vieni da me, dammi i tuoi soldi che te li gestisco. Allora che cosa abbiamo fatto? Ho detto, noi non dovete fare marketing in questa maniera, certo che lo possiamo fare, lo faremo al meglio possibile, ma al di là c'è sempre una resistenza, quando tu sei percepito come un venditore c'è sempre una resistenza da parte delle altre persone, noi dobbiamo ragionare in maniera tridimensionale. Tutte le tue persone che stanno, il tuo pubblico target, dove lo trovi rispetto alle problematiche attive che sta sentendo? Se vai a vedere sono tonnellate di persone in realtà che ricercano come fare causa alla banca Tizio, come fare causa alla banca Caio, quelli mi hanno venduto quel fondo bidone, quelli mi hanno venduto i bond del cacchio, quella banca, tutte quelle banche che hanno truffato negli ultimi anni con il giro dei diamanti, eccetera, eccetera, anche perché lì c'era veramente coinvolto Vasco e tutta quella gente lì che sono fatti inculare anche loro un sacco di persone famose, quindi è pieno di queste persone abbienti che in realtà stanno cercando di capire come recuperare un pochino o totalmente o quello che possono dei loro soldi. Ho detto, tu fai una cosa, invece che farti come l'ennesimo promotore finanziario tu crei un'associazione, ti metti insieme a degli avvocati, aiuti queste persone ad avere uno sportello numero verde gratuito dove queste persone si possono unire a delle class action per recuperare o avere tutela legale o semplicemente capire in maniera gratuita cosa possono fare e cosa non possono fare. A te non costa niente, porti dei lead tra virgolette agli avvocati che dopo se la giocano e si devono imbastire le cause, eccetera, eccetera, fanno due soldini, stranamente queste persone quando tu fai parte di questa associazione di tutela dei risparmiatori, eccetera, eccetera, se devono continuare a investire due soldini, indovina chi li daranno dopo? Non è difficile, no? Ok, quindi bisogna ragionare ragazzi, cioè fuori dal concetto io faccio questo, fatemi le campagne, agenzia. Troppo facile così il marketing. Non funziona così, non funziona così. O meglio, funziona così ma lo possono fare tutti. Ragionare in maniera completamente diversa, prendere delle idee da un altro settore, portarle nel mio e lavorare in maniera diretta e indiretta sul mio marketing, questo è quello che rende le vostre aziende potenzialmente straordinarie. Quindi questo è il lavoro che bisogna imparare a fare, ragazzi. Perché se no, se rimango bidimensionale, c'è bisogno che ve lo spiego io. Come si fa una campagna di marketing, ormai qualunque scemo che segue il circolo degli imprenditori me lo clona ed è diventato, sono tutti diventati intelligenti a fare gli esperti di marketing in Italia. Prima non so dove erano, però oggi sono tutti intelligenti, ma non lo sono perché in realtà fare marketing davvero richiede uno studio un pochino più approfondito e un'esperienza all'interno delle aziende un po' più importante nel creare progetti. Quindi io non faccio lo spiegatore, non faccio il formatore, io sono un imprenditore che insegna anche in alcuni momenti durante l'anno. E questo probabilmente vi può dare una mano perché è il contatto con qualcuno che ci passa tutti i giorni e ci è già passato nei problemi anche di crescita, di sviluppo e di ragionare costantemente su queste cose. Quindi tornando a noi Rezzi stavamo dicendo su questo passaggio esiste un passaggio l'identificazione, eravamo a livello di identificazione con il nostro pubblico. E ieri ci siamo lasciati dicendo l'identificazione più importante è aiutare i nostri clienti a creare un con loro contro i loro nemici. Questa è l'identificazione, quindi io mi devo schierare in maniera forte per loro, con loro, contro i loro nemici. Vi ho fatto alcuni esempi adesso, in particolare l'esempio dell'associazione a tutela dei consumatori, eccetera, eccetera. Questo è uno dei tanti esempi dove in maniera completamente anche svincolata da quello che dovrebbe essere in realtà il mio core business o quello che io ho in testa riesco a schierarmi con le persone che vogliono per esempio investire denaro. Quindi ieri abbiamo visto con Matteo il salvagente, il salvagente si occupa di questo, svelare le truffe contro i consumatori grazie ai test indipendenti, controlli, check di laboratorio, eccetera, eccetera. Quello è un altro passaggio molto importante, quindi diventa un brand cappello che ti permette di veicolare dopo tutta una serie di messaggi in maniera straordinaria. quindi le persone farebbero qualunque cosa questa è una scalettina vi do i cinque punti farebbero qualunque cosa per coloro i quali incoraggiano i loro sogni giustificano i loro fallimenti alleviano alleviano le loro paure confermano i loro sospetti e li aiutano a tirare sassi ai loro nemici. Cos'è? È una formula di Blair Warren che è un ricercatore molto molto importante nel nostro settore della vendita. Quindi questi sono i punti e è veramente tutto qua in realtà. Quindi voi volete creare affinità con le persone identificazione con le persone quando parlate con le persone anche dal vivo dovete imparare a parlare in copy dovete imparare quando scrivete dovete scrivere in copy ma anche quando parlate dovete imparare nel tempo dovete allenarvi a parlare in copy perché quando parlate con qualcuno non dovete demotivarlo dovete continuare a incoraggiare i loro sogni anche se hanno fatto degli sbagli anche se prima hanno fatto delle scelte sbagliate anche se si sono rivolti a dei fornitori sbagliati va bene hanno fatto un errore Porelli mettetevi anche nei loro panni noi quante volte compriamo in maniera sbagliata perché non siamo esperti e ci facciamo fregare è all'ordine del giorno cioè non è perché siamo scemi è perché questi poveretti si sono fidati di qualcuno e l'hanno presa in quel posto come capita a noi noi tutti gli errori lo diciamo ieri che abbiamo fatto nella vita mica perché siamo stronzi perché a un certo momento di qualcuno ti devi fidare perché se no non vivi più e purtroppo capita che tante volte ti fidi e queste persone poi non mantengono le promesse cosa devo fare? cioè non devo più vivere sul pianeta terra la soluzione è quella o non vivo più sul pianeta terra o capisco che la vita è schivare le bombe però credendoci continuano ad andare avanti quindi io non devo motivare le persone devo continuare a incoraggiarle a ottenere quel risultato risolvere quel problema ottenere realizzato tra virgolette quel desiderio devo continuare a incoraggiarlo devo sostenere le persone devo giustificare in particolare i loro fallimenti dicendo quello che stiamo dicendo adesso cioè è normale sbagliarsi è normale non riuscire la prima volta è normale essersi fidati di qualcuno che non è colpa tua ok? cioè nel senso ragazzi ricordatevi sempre questo la vittima o il truffato o la vittima in generale può anche essere un ingenuo ma il truffatore è sempre un infame cioè nel senso chi tradisce è sempre un infame io posso anche essere ingenuo ma dopo che ti ho dato la mia fiducia e tu ci hai sputtato sopra tu sarai sempre un infame io sarò anche ingenuo però te sei una testa di cazzo cioè tra essere una testa di cazzo cattiva ed essere un poveretto che si è fidato secondo me quindi quindi le persone ragazzi vanno giustificando non potete prendere ah vedi venivi da me sei andato da quello stronzo per 5 euro in meno te adesso te la prendi nel culo ti sta bene vi vedo quando scrivete queste cose sui social sui clienti eh i miei clienti stronzi vanno per il prezzo adesso te la prendo nel culo lo vedi? glielo ho detto e non è proprio così l'atteggiamento di identificazione non è proprio non siete proprio precisi precisi non è proprio preciso ok? bisognerebbe essere severi però anche un pochino indulgenti bisogna avere il giusto il giusto metro ok? alleviare le loro paure quindi certamente utilizzare le persone certamente difficili certamente è possibile incappare eccetera eccetera però come abbiamo visto anche ieri no se vuoi provarci io ti dico che questo è queste sono le prove che ti posso portare queste sono le testimonianze l'abbiamo fatto mille volte è la centunesima volta che mi capita un caso come il tuo è la cento quasi unesima volta millesima volta che mi capita a una persona che si è trovata male con qualcun altro eccetera eccetera al netto di questo al netto di queste prove di queste statistiche di queste testimonianze qui c'è anche la mia garanzia cento per cento soddisfatti o rimborsati abbiamo finito basta si chiude là si chiude là è finita finisce là non è più complicato di così cioè se voi imparate a parlare al dialogo mentale delle persone la smettete di rompere i coglioni con il vostro prodotto le caratteristiche i vantaggi quanto siamo bravi non è quella roba lì la vendita non è quella roba lì la gente ha solo bisogno di avere meno ansia quando fa le cose e sapere che si può fidare da un punto di vista di affinità certamente da un punto di vista anche concreto con la credibilità basta finisce là non è più difficile di così basta ci metti un po' la faccia e finisce ok confermare i loro sospetti certamente perché dico è ovvio nel nostro settore capita che ti può capitare che ti dicono A e invece è B per questo motivo questo motivo tu non lo sapevi nel nostro settore è tipico nascondere queste informazioni nel nostro settore è tipico non informare i clienti su questi passaggi è tipico non informare i clienti su questi rischi perché poi altrimenti la gente eccetera eccetera tu come vedi invece io su queste cose ho scritto un libro io su queste cose cerco di parlare ai giornali io su queste cose faccio dei video io su queste cose sono andato in trasmissione sono andato in televisione sono andato in radio vedi che nel mio io combatto è chiaro che non posso arrivare ovunque perché non sono una multinazionale quindi tu sei capitato a me oggi è chiaro che se io fossi una potenza economica o possedessi giornali e televisione sarebbe più semplice non ce l'ho però vedi nel mio piccolo io come smaschero queste cose come combatto contro queste cose contro questi problemi contro questi rischi si parla così ragazzi alle persone e in più li aiutano a tirare sassi ai loro nemici quindi quello che dicevamo io mi schiero in maniera forte per loro contro gli altri gli dimostro che sono in questa condizione quindi se voi ragazzi seguite questa scaletta in cinque punti nei vostri materiali di marketing eh ma diventa molto più semplice se voi quando state vendendo durante una trattativa durante una consulenza seguite questi cinque punti guardate che facilissimo non è magia ok? è semplicemente psicologia dell'affinità applicata al nostro lavoro io in questa maniera immediatamente divento un'autorità per le persone perché sono un'autorità? perché sono con loro divento per loro il punto di riferimento il pennone divento la bandiera il bastone piantato per terra al quale loro possono fare riferimento cioè divento veramente una pietra stabile per loro divento un punto stabile di riferimento e loro possono guardare a me questo è quello che cercano le persone le persone cercano di alleviare il loro senso di paura il loro senso di ansia nel fare una scelta sbagliata e per questo o li lascio da soli a decidere o io divento quella forza inamovibile che rimane fermo incorruttibile davanti a tutti e davanti alla tempesta questa è l'unica cosa che cercano le persone il punto di riferimento del quale fidarsi solo che per poterlo fare tutto ciò che stiamo vedendo insieme in questi giorni vi faccio vedere un altro passaggio legato a a questo concetto di affinità con le persone esiste uno studio molto bello una serie di studi in realtà sono ok addirittura i primi studi sono del 69 su questo argomento è liking a person as a function of doing him a favor cioè farsi piacere una persona in funzione di essere noi che gli facciamo un favore questo studio voleva dimostrare se è possibile che mi stiano più simpatiche le persone alle quali faccio dei favori o alle quali mi chiedono un favore e io glielo faccio ok è possibile questa cosa e quindi è nato questo studio quindi i ricercatori nel 69 hanno fatto questo studio hanno dato agli studenti la possibilità di vincere denaro in una prova di intelligenza in termini semplici ti faccio un'intervista ok se rispondi bene all'università era a Roma all'interno di Stanford all'interno di università se rispondi bene poi ti do un premio in denaro il nostro ripartimento di psicologia perché era il dipartimento di psicologia di Stanford ha detto se tu superi questa prova vinci c'è un premio in denaro ok allora tutti ovviamente le prove erano tutto sommato abbastanza semplici in modo che praticamente tutti potessero vincere alla fine quando queste persone hanno ricevuto il denaro come premio al fatto che hanno tra virgolette risposto bene alle domande eccetera eccetera li hanno divisi in tre gruppi al gruppo 1 il ricercatore quindi quello che gli ha fatto le domande lo ha sottoposto alla ricerca gli ha chiesto di ridargli lo ha richiamato e gli ha chiesto di ridargli indietro il denaro perché gli ha confessato guarda l'avevo messo di tasca mia per la ricerca visto che non mi hanno finanziato e sono in bolletta scusa se me lo potessi ridare ok perché mi sono sbagliato cioè la volevo fare sta ricerca però mi sono sbagliato con i conti di tasca non ho più soldi sono un po' in bolletta devo pagare l'affitto di casa e non ce n'ho più al gruppo 2 invece una segretaria ha chiamato e ha chiesto di restituire il denaro perché era del dipartimento di psicologia e i fondi erano scarsi scusa guarda questo ho fatto sta roba però i soldi erano del dipartimento di psicologia ci servirebbero indietro cortesemente al terzo gruppo non è stato chiesto nulla non gli hanno detto niente al primo gruppo il ricercatore gli ha chiesto per favore mi puoi ridare il denaro eccetera eccetera al secondo la segretaria ha chiesto se gli potevano ridare il denaro per il dipartimento di psicologia al terzo gruppo non hanno chiesto niente come sono andati i risultati i partecipanti del gruppo 1 hanno detto di apprezzare il ricercatore più di quelli del gruppo 3 al quale non hanno nemmeno chiesto il denaro indietro e quelli del gruppo 2 cioè dei tre gruppi in teoria a chi doveva stare più se io vado a pelle a sensazione a chi è che doveva stare più simpatico il ricercatore a quelli del gruppo 3 gli ha intervistati gli ha dato dei soldi e basta se ne sono andati via invece no sono diventati più simpatici quelli del gruppo 1 cioè quelli di quali il ricercatore ha detto per cortesia puoi restituirmi i soldi puoi farmi un piacere puoi restituirmi i soldi ok e sono stati molto più apprezzati nei giudizi rispetto a quelli del gruppo 2 addirittura a quelli del gruppo 3 che nemmeno hanno richiesto i soldi quindi hanno dimostrato in questo modo che una richiesta personale per un favore aumenta il grado di affinità tra le persone la richiesta personale di un favore aumenta il grado di affinità anche quando io sono la persona che lo chiede il favore se io vi chiedo un favore ci sentiamo più vicini ci sentiamo più più affini il risultato più basso in assoluto ottenuto dal gruppo 2 dimostra invece che una richiesta impersonale fatta da altri diminuisce l'affinità ok quindi l'affinità diminuisce quando fate delle richieste ai vostri clienti però li fate chiamare dal gatto dalla segretaria eh no 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 la richiesta impersonale non funziona ok diminuisce l'affinità quindi nel momento in cui state facendo un certo tipo di trattativa siete a un certo livello da lì in avanti dovete sviluppare l'affinità in maniera forte e in realtà questi studi sono andati avanti e non sono rimasti solo a livello psicologico sono andati in termini di statistiche sono stati ripresi ok nel 2016 questo è un studio del 2016 è partono dall'effetto della richiesta del favore quindi partivano dagli studi del 69 pochi anni fa tre anni fa hanno fatto questo studio chiedere un favore ok proprio da venditore a cliente o da commesso a cliente l'hanno fatto in due campi diversi cioè all'interno per esempio dei negozi e della GDO e invece proprio durante le trattative con venditori con clienti contrattative più complesse cioè qual era lo scopo di questo studio verificare se questo effetto avesse proprio anche degli effetti concreti pratici davvero dimostrare se questa cosa aveva degli effetti concreti e pratici davvero nel commercio cioè un venditore che chiede un favore al cliente quindi come hanno fatto questo studio hanno preso sia all'interno dei negozi della gran distribuzione della GDO degli studi eccetera eccetera e dall'altra parte hanno fatto la stessa cosa con i venditori e hanno detto tu puoi fare un'offerta speciale ai tuoi clienti quindi gli puoi dire che questo è il miglior prezzo in assoluto che gli puoi fare per questa cosa l'hanno fatto con due gruppi di controllo a uno gli fai un'offerta speciale e basta l'altro gruppo invece che era quello del test gli ha detto tu puoi fargli questa offerta se però prima gli chiedi un favore quindi prima gli chiedi un piacere metti una condizione vincolante di queste persone lo trovate nel manuale per esempio dei fondamenti poi dopo lo vedremo ancora più nel dettaglio però trovate tutta la parte sulla vendita rovesciata però c'è un problema ti posso dare queste cose però c'è un problema per cortesia in questo caso hanno studiato il concetto di fare un favore tra virgolette alla persona che si trova dall'altra parte guardate i dati dello studio che cosa dicono allora tra venditori ok quindi venditore con il cliente coloro che hanno fatto l'offerta normale senza chiedere un favore l'offerta è stata accettata l'offerta speciale è stata accettata nel 47,5% dei casi stessa offerta dove il venditore gli ha detto sì però mi devi fare un piacere personale prima che io possa farti questa offerta 83,6% e non è il doppio ma è comunque va verso il doppio in realtà ok quindi 83,6% di efficacia grazie a questa semplice tecnica di affinità rispetto a un 47,5 funziona in maniera diversa perché non c'è una relazione così forte anche nei negozi cioè nei store discount eccetera eccetera lo sconto fatto a negozio fatto alla cassa eccetera eccetera quindi non c'è una relazione come con me dove stiamo parlando da un'ora stiamo facendo una trattativa ok non c'è quella relazione comunque dal 58,3% del primo gruppo per l'offerta si è passati al 64,4% di efficacia quindi anche in una non relazione il fatto di chiedere quindi è tra perfetti sconosciuti in una relazione momentanea che può durare pochi istanti comunque aumentare l'affinità aumenta assolutamente il tasso di conversione ok quindi questi dati sono importanti e voi dovreste studiare ragazzi queste cose perché dovreste capire nel momento in cui proponete create una relazione con la persona dovete fare in modo di coinvolgerla all'interno della relazione con voi della trattativa eccetera eccetera nel momento in cui proponete qualcosa che sia anche un'offerta speciale un'offerta a sconto eccetera eccetera è molto più probabile che l'offerta venga accettata se la persona si deve impegnare nei vostri confronti in qualche modo con qualche condizione nel darvi tra virgolette qualcosa in cambio non necessariamente di materiale anzi è semplicemente farvi un favore rispettare una data rispettare una scadenza ok farvi una promessa qualunque cosa anche in materiale però coinvolge la persona all'interno di questo scambio la persona si sente molto più portata in realtà ad accettare quello che gli date perché perché vincolate il fatto rende molto più credibile il fatto che voi gli facciate una promessa ok gli facciate uno sconto gli facciate un'offerta la rende più credibile proprio perché voi state scambiando qualcosa con lui altrimenti se è unidirezionale è sospettosa nella testa delle persone ok è uno studio molto recente molto interessante e porta dei risultati che secondo me sono veramente straordinari queste cose io le ho sempre sapute dal punto di vista empirico però il fatto che mano a mano io riesco a trovare degli appoggi perché gli studi sulla vendita vengono un pochino avanti negli ultimi anni è interessante è sempre stato un settore abbastanza negletto nessuno investe non essendoci la facoltà di vendita all'università nessuno investe su queste cose quindi trovare studi scientifici chi lo dice? eh lo dico io perché faccio a vent'anni sto lavoro e ti dico che l'abbiamo provato centomila volte e funziona su base empirica però grazie al cielo finalmente negli ultimi anni riesco ad avere anche delle pezze di appoggio da mostrarvi ok scusi ma lei è medico io no ma loro sì quindi questi sì è così ok e quindi ci troviamo qua ok quindi abbiamo visto l'autorità si basa sul concetto della prescrizione e abbiamo in questo momento tre pilastri ok celebrità 11 step 18 blocchi credibilità la creazione la credibilità che abbiamo detto si basa sui fatti istantanea e progressiva quindi devo trovare due modi in realtà per sviluppare la credibilità di me stesso della mia azienda sia il più velocemente possibile che in maniera progressiva attraverso l'accumulo di prove dati statistiche testimonianze eccetera eccetera poi mi devo spostare sul androne della fiducia ok quindi abbiamo visto il primo modo di creare fiducia è attraverso l'affinità ok quindi punto primo della fiducia creazione si fa attraverso la creazione dell'affinità che è qualcosa di psicologico non è nulla come dicevamo ieri a vedere con la realtà ok visto che si ottiene attraverso la gestione della psicologia di acquisto delle persone lo posso fare molto velocemente perché o lo so fare o non lo so fare non è che ci vuole tempo non lo so fare ci vuole tantissimo tempo nel senso che non riesco se lo so fare ci metto il tempo di una relazione con la persona il tempo di una trattativa però devo essere bravo a vendere ok quindi devo diventare bravo dal vivo ad addestrarmi su queste cose in particolare quindi il primo punto il primo sottopunto dell'affinità quindi la sottocartella dell'affinità è identificazione che è quello su cui abbiamo lavorato tra ieri e questa mattina poi c'è un secondo punto in realtà che è molto importante per creare affinità che sono le domande tendenzialmente quindi da una parte c'è prima l'identificarmi con lui tutte le cose delle quali abbiamo parlato fare in modo che il cliente mi percepisca come un alleato come qualcuno che lo capisce come qualcuno dalla sua parte prima ancora tra virgolette di doverci parlare anche mentre ci parlo ovviamente ma già da subito come sono schierato in campo a quale partito tra virgolette appartengo lui lo deve capire immediatamente questo è molto importante e secondariamente oltre all'identificazione per creare affinità ho le domande ovviamente avete una marea di domande già all'interno del manuale di base quindi non ci tornerò sopra non ci torneremo sopra all'interno del manuale di base dei fondamenti avete tutte le domande necessarie per creare il vostro metodo all'interno dei vari vagoni vi faccio solo qualche esempio ok di progressione logica di alcune domande che vanno a sviluppare in particolare il pain del cliente cioè vanno a scavare un pochino sul dolore del cliente sulla problematica del cliente sulla frustrazione del cliente sulla paura del cliente in particolare proprio su ciò che lo frustra perché se siete bravi ragazzi in realtà a lavorare su quel passaggio lì è il momento nel quale più di tutti siamo in grado di creare affinità ok posto che dovete aver fatto prima un buon lavoro ed essere riusciti ad arrivare per esempio a lavorare e gestire l'ologramma perché se partite da lì è tutto estremamente più facile ok però quali sono tutta una serie di domande in ordine logico e cronologico che io devo adattare al mio contesto adattare al mio modo di lavorare adattare al mio alla mia professione per sondare in realtà la persona e creare affinità con lui ok quindi invece che saltare alle conclusioni invece che parlare del mio prodotto di quanto siamo bravi a risolvergli il problema io faccio domande in modo che sia la persona a parlare io non parlo mai io quando dico io ragazzi dico voi cioè dico noi non dobbiamo parlare mai tendenzialmente del nostro prodotto o servizio dovrebbe essere il cliente che mi spiega come vuole acquistare io alla fine mi limito a prescrivere non faccio pipponi infiniti su caratteristiche tecniche vantaggi non esiste quella parte lì se prendete il manuale venditore vincente vedete i sette vagoni del treno esiste una parte che si chiama un vagone che si chiama spiegazione del prodotto vero? no è una trappola non c'è quella cazzo di spiegazione non c'è non c'è perché non c'è non c'è quel vagone lì non c'è non c'è nel nostro sistema ok è alla fine nella fase accordo dove c'è una prescrizione se avete fatto bene poi stringiamo l'accordo negoziando un minimo e arrivando a una conclusione ma non c'è il vagone pippone tecnico su cosa faccio io non c'è quel vagone lì ok non esiste non esiste perché il cliente che parlando me lo deve descrivere e io dopo devo cercare ovviamente di aggiustare la mia presentazione lui che mi dice come vuole il prodotto o servizio io se posso farlo ovviamente se non posso farlo glielo dico ma se posso farlo gli presento il prodotto o servizio con le sue parole non con le mie e questo è la sì che i venditori non capiscono cioè continuare a presentare quello che fanno con le loro parole non è così non funziona così anche il copy non funziona così il copy serve è una comunicazione uno a tanti è generica serve per attirare l'attenzione delle persone attira l'attenzione dico delle cose intelligenti ma molto a maglie larghe perché non sto parlando con la persona la vendita serve perché a un certo momento è one to one è uno a uno sto parlando con lui e lui se lo faccio parlare mi spiega esattamente non ha grandi maglie come si fa nel copy lui mi spiega l'ologramma è solo suo come faccio a mettere l'ologramma nel copy se è diverso per ogni persona porca puttana non si riesce sono molto generico singolarmente se mi prendete quel lavoro lo fate con la persona quindi scendete nei dettagli vi mettete nei suoi panni e cucite la trattativa come un sarto su di lui non potete essere a maglie larghe ragazzi più importante quello che fate più la persona se io la faccio parlare non solo crea affinità perché si sente capita ma mi spiega come lo vorrebbe se io uso le sue parole invece che le mie vendo molto di più se voi invece avete un disco rotto con il quale presentate la roba va da sé che sia molto più difficile quindi come faccio? faccio un po' domande per farlo aprire creare un po' di affinità e fare in modo che lui mi dica quali sono i suoi dubbi le sue paure eccetera eccetera e potendo come vorrebbe tra virgolette acquistare il mio prodotto se potesse quindi un generico dimmi di più a riguardo fammi capire di cosa stiamo parlando perché siamo qui oggi ok quindi perché stiamo parlando perché mi stai chiedendo queste cose perché hai accettato di incontrarmi perché hai voluto incontrarmi eccetera 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 ok la persona parla ok bene quando arriviamo al nocciolo della situazione ok un generico puoi essere più specifico puoi farmi capire meglio continua ad approfondire cosa intendi per cosa intendi per cosa intendi per cosa intendi per questo cosa significa per te questo ok quindi parto da un quadro generico della situazione poi quando vedo che sto arrivando nei punti importanti puoi essere più specifico cioè la persona devo continuare a farla parlare io non voglio rimanere su concetti astratti su concetti generici voglio andare nel pratico puoi essere per cortesia più specifico cosa ti aspetti da cosa significa esattamente per te questo aprire le parole del cliente entrare nel dialogo mentale del cliente è semplice se fate le domande prendete qualcosa che ha detto e dici cosa significa per te perché questa parola per me è un valore per te ne è un altro io voglio capire cosa significa questa cosa per te perché le parole sul vocabolario hanno tutte lo stesso significato ma nel mio vocabolario hanno un significato che è diverso da quello che emotivamente significano per te in particolare in questo momento da quanto tempo è un problema da quanto tempo è una cosa irrisolta da quanto tempo ci stai pensando da quanto tempo hai cominciato a notare questa problematica da quanto tempo ti è venuto in mente che questa cosa potesse essere qualcosa di importante per voi da quanto tempo ti è venuto in mente questa cosa in realtà avete cominciato a sentire che è un problema cosa hai provato a fare al riguardo quindi a seconda di quello che faccio a chi ti sei rivolto che cosa hai fatto hai fatto il fai da te hai comprato questa cosa da qualche altra parte l'hai comprata al discount ti sei rivolto a un altro fornitore che cosa hai fatto che da niente ho provato a fare da me o ho comprato o sono andato in altri locali in altri posti eccetera eccetera ho comprato da altri fornitori ho provato con altri tipi di prodotti ho provato con altri tipi di soluzioni eccetera 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 ragazzi quante volte noi non chiediamo queste cose ai clienti cioè tu avevi questo desiderio o avevi questo problema ok da quanto tempo ce l'avevi in testa ok sono la prima persona con la quale parli no probabilmente ti sarai informato su internet avrai cercato avrai parlato con altre persone avrai magari già testato avrai già speso soldi avrai già comprato a che livello è la persona anzi voi dovete saperlo cioè è la prima volta che sta roba gli viene in mente ha solo provato a informarsi con qualcuno ha già tirato fuori dei soldi per provare a risolvere questo problema cioè cambia il livello di coinvolgimento di una persona che si sta siete la prima persona con la quale parla bugiardi o in realtà ha già investito in altri modi in altri modelli in altre soluzioni domanda successiva e ha funzionato? e sei rimasto contento? molto probabilmente se è da voi no però se non glielo chiedete in maniera esplicita non lo fate montare su ok il nostro scopo è anche farlo un pochino montare su ok ok non ha funzionato quando mi dice di no mi butta in là e che cosa non ti è piaciuto e che cosa non ha funzionato puoi essere più specifico cioè da capo no? puoi essere più specifico e esattamente che cosa ti aspettavi e cosa ti hanno promesso che invece poi non è stato così eccetera 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 cioè su queste cose quando l'avete in testa questo processo poi andate mano libera quanto pensi che questo problema per esempio ti sia costato? quindi dopo lo vediamo lo dividiamo in tre ma scendo più nel dettaglio perché una cosa che devo fare è a seconda di quello che faccio devo quantificare il danno come un'assicurazione devo quantificare il danno che queste persone hanno ricevuto se io non gli faccio queste domande non gli ristimolo il problema la persona non realizza in realtà veramente dopo l'urgenza invece di cambiare o di agire o di fare le cose in maniera diversa ok? quindi in alcuni casi il concetto di quanto ti è costato è legato effettivamente a soldi non fatti o soldi sprecati risparmio eccetera eccetera ROI non avuto quindi se parliamo di cose tecniche nel B2B ok? oppure semplicemente il costare non è sul piano meramente economico ma è sul piano in termini di frustrazione quanto ti è costato? la persona ti dice non ne posso più sono esaurito è la centesima volta che mi prendono per il culo torno a casa e il lavandino continua a gocciolare quello è quanto è costato? e in più mi è costato che li ho pagati questi stronzi quindi in alcuni casi esiste un'economia di questa cosa in termini di spesa spreco mancato guadagno eccetera eccetera in alcuni casi è semplicemente una spesa quindi un costo questo problema è dal punto di vista emozionale dal punto di vista della stanchezza dal punto di vista emotivo dal punto di vista anche della delusione cioè quanto ti è costato? non è solo i soldi quando io vi dico aver sognato tanto questa cosa e poi essere rimasto deluso quanto ti è costato? vedete che la frase è uguale effettivamente sono molto deluso sono molto amareggiato poi magari la persona ve lo dice in dialetto nella vostra regione però il concetto è che queste cose se gliele chiedete in maniera corretta ve lo dice il terzo livello è c'è un misto tra costi tangibili e costi emozionali perché magari come nell'esempio sciocco che facevo prima ho pagato tutti questi idraulici in più sono cornuto e mazziato perché il lavandino gocciola quindi sono anche esaurito mentalmente non ne posso più quindi nel vostro caso ragazzi i costi del non erogato sono tipicamente tangibili sono tipicamente emotivi o probabilmente se ci pensate esistono entrambi scavate in quell'ordine su questa domanda non esiste nessuno che non abbia dei clienti che hanno dei costi clamorosi che siano emotivi che siano tangibili o entrambi per aver non risolto un problema o non averlo ancora risolto o addirittura aver già pagato o essere andato da altri altri studi altri centri altri locali altri ristoranti essere andati da altri fornitori qualunque cosa essa sia e non aver ottenuto la soddisfazione che loro volevano o non aver ottenuto il problema risolto non esiste quindi questo ragazzi per voi sono domande da ogni domanda di questa è un milione di dollari in più sul vostro conto corrente se imparate a farla perché cambia completamente cambia tutto cambia tutto ragazzi cambia tutto invece che il pippone fate le domande intelligenti e vado a lavorare vado a scavare no? e come ti fa sentire questa cosa? e quindi come ti senti al riguardo qui fate in modo che la persona venga fuori deve vomitare tutto e mentre vomita voi qui vi agganciate alle slide di prima e usate la strategia di con loro contro quegli altri ricordate e li capisco e ci hanno ragione e li giustifico e non gli do le colpe e continuo però a incoraggiarli per fargli sognare e gli dico che sono dalla loro parte e tutto qua vedete come si incastra? è un pezzo unico in realtà vi deve entrare ragazzi a forza di ridondanza in modo che vi diventi semplice facile capire quello che dovete fare come ti senti al riguardo come ti fa sentire il fatto di non avere ancora risolto questo problema o realizzato questo desiderio quindi ci hai dato a mucchio si dice a Modena da noi darci a mucchio significa smettere di provare quindi hai smesso di cercare di risolvere questa situazione cioè non ti fidi più nessuno devo fare più no 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 bene in quel momento noi siamo la persona giusta al posto giusto questo è come mettervi al posto giusto nel momento giusto con poche domande cosa sono 1 2 3 4 5 6 7 8 domande banali poi in realtà le dovete aprire non sono solo queste adesso vi faccio una serie di esempi però questo vi permette di creare velocemente un piccolo imbuto che vi porta a mettervi sono domande che vi permettono di porvi in affinità quindi diventare un'autorità per la persona in maniera molto più veloce perché vi mettono in affinità con lui cioè sono domande studiate in maniera strategica per creare quel senso di questa persona mi capisce questa persona si mette nei miei panni questa persona non sta cercando solo di vendermi qualcosa ma effettivamente al di là di tutte le cose che conosco di lui perché i suoi materiali mi hanno già abbastanza convinto ma vedo che quando mi parla questa persona è sinceramente interessata a capire il mio problema e in più è veramente schierato dalla mia parte questo è il dato questo è il concetto questo è il gioco quindi queste domande andiamo mi portano a lavorare in particolare nel vagone pain che è quello che abbiamo detto abbiamo nel manuale ve lo suddivido ulteriormente per comodità didattica in tre sottolivelli esiste un pain tra virgolette che è iniziale è superficiale e adesso andiamo a vedere quindi esiste un pain iniziale e poi esiste un pain dalle implicazioni maggiori quindi è legato al concetto di costi benefici quanto mi è costato quindi far venire fuori veramente questa parte è molto importante è la parte della domanda di prima che vi stressavo quanto ti è costato quindi le implicazioni emotive economiche e poi esiste un'implicazione ancora più profonda che sono le conseguenze veramente emotive personali quindi sono tre livelli di pain superficiale implicazione dal punto di vista materiale pratico e implicazione dal punto di vista molto più emotivo e molto più personale se riuscite a tenere in testa questa semplice scalettina iniziale implicazione pratica implicazione emotivo personale non vi sbagliate più cioè rispetto a qualunque dei vostri concorrenti siete dei maghi a fare le trattative dal vivo vi mettete lì non avete nemmeno più voglia di fare il marketing volete parlare con la gente perché fate prima siete il marketing umano quando la gente scherza su me dice Frank parla in copi dal vivo sì voi dovete essere uguali mi rompo i coglioni voglio parlarci con la gente voi uguale fate prima no scherzo ci mancherebbe però il concetto che non ci deve essere differenza nel tempo da quando vi prendete ore per scrivere un pezzo per farvelo uscire in maniera intelligente e quando parlate in tempo reale dovete avere lo stesso livello di lucidità dovete ragionare nel dialogo mentale del cliente scardinarlo in tempo reale non dovete avere bisogno di ore per pensarci anche perché comunque un lavoro fate i clienti le tipologie di problemi che hanno comunque si possono riassumere in due tre quattro cinque un x numero comunque di casi ristretti dopo un po' li sapete a memoria il problema è che dopo un po' che li sapete a memoria voi date per scontato e quindi tornate indietro invece che migliorare nelle trattative ah la so la so la so la so la so adesso le spiego figa si fa quella roba lì ok lo so che la sapete il problema è che non la sa lui cioè se per voi è la centomillesima volta che sentite quel caso per lui è la prima volta che lo spiega in maniera intelligente a voi e quindi voi mi fate la decenza di fare finta di non sapere niente poi nella vostra testa visto che le sapete parlate in maniera più intelligente in tempo reale questo è il modo corretto di ragionare non fare il fenomeno ah la so la so io ho la vent'anni l'ho visto e tu ho capito lui no è arrivato gli è capitato adesso sei il primo è la prima volta la quale la sto spiegando ok quindi uso la mia competenza in realtà proprio perché mi aiuta a parlare in tempo reale in maniera intelligente ma attraverso le domande deve fare il grosso del lavoro il 90% del lavoro lo fa lui io non dico niente lo fa tutto lui esiste un pain superficiale quindi apro la discussione con qualche domanda molto banale dimmi un po' di più riguardo a quello che è successo di cosa stiamo parlando esattamente perché hai voluto incontrarmi sono tutte domande tra virgolette che potete adattare su questa falsa riga le adattate poi il vostro contesto ma di base è questo c'è una persona che viene da voi con un problema con un desiderio le domande più o meno saranno queste una domanda di apertura fammi capire meglio di cosa stiamo parlando eccetera 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 per esempio quale sarebbe la cosa più importante che vorresti fosse diversa con il tuo attuale fornitore cominciamo ad aprire tu stai lavorando in una certa maniera o stai usando un certo tipo di prodotto di servizio non necessariamente di un concorrente perché ragazzi la maggior parte di noi tante volte si trova a vendere delle cose che non sono anche abbastanza innovative cioè nel senso non sono in concorrenza diretta con un concorrente diretto in realtà la persona sta utilizzando altre strategie faccio un esempio ci sono dei ragazzi tra di voi per esempio che hanno delle software house vendono software normalmente chi vende dei software non ha in concorrenza un'altra software house tranne il momento tra virgolette nel quale magari la persona sta chiedendo mille preventivi e si sta informando quindi esiste una concorrenza nella trattativa ma non esiste una concorrenza nell'uso nel senso che questa gente la concorrenza che tu hai è che questi stanno usando ancora la carta o il file di excel cioè quello quando uno deve vendere io conosco l'azienda vendono i gestionali più belli del mondo prima di vendere un gestionale la concorrenza non è l'altra azienda che vende il gestionale è che questi hanno la roba nei faldoni di carta su excel e quindi il problema è che devi tirare fuori quali sono i problemi non sono i problemi con gli altri gestionali il problema è con quello che stai facendo adesso su come stai approcciando oggi il problema cosa vorresti che fosse diverso quindi per me non è importante ragazzi se il competitor è un competitor diretto quindi sto andando in sostituzione di un concorrente diretto o se sto portando un'innovazione un modo di fare diverso un modo di gestire diversamente la situazione della persona quindi che sia un competitor indiretto quindi significa sto portando alla persona non un prodotto parallelo ma un modo completamente diverso di affrontare la situazione rispetto a come l'affrontava prima o anche sto andando in sostituzione di un competitor diretto la domanda di base aggiustata ma non cambia non cambia ok e se io voglio portare uno in palestra non è solo il problema della palestra o un'altra parte magari questo proprio in palestra non ci andava però il suo obiettivo non è la palestra il problema è che tu cosa stai cercando di fare è ho qualche problema di salute eccetera eccetera ho provato la dieta della banana la dieta del fantino la dieta della clerice eccetera eccetera e sono ancora più grasso di prima mi sono maniato pure la clerici ok quindi il problema quindi lì non è il concetto di in quella palestra hanno i macchinari più brutti da me ci sono i corsi più belli il problema è qual è la frustrazione cioè che cazzo vorresti cambiare il problema è che mi sento male non mangio un cazzo eccetera eccetera e in più non dimagrisco bene capite che gli sto portando una sostituzione del modo di intendere la problematica non gli sto dicendo questa palestra oppure da questa dieta passa a questa dieta non è necessariamente questo ok cioè esiste una sostituzione per settori molto più larga molte volte molti di voi hanno questo passaggio cioè solo che se non capite quello che fate voi ragionate sempre nello spiegare perché il vostro prodotto il vostro servizio è meglio di quello della concorrenza ma molte volte i vostri clienti non stanno proprio facendo niente o non stanno facendo niente o non stanno o stanno facendo qualcosa ma non stanno usando un prodotto della concorrenza non dovete convincerli che il vostro prodotto è meglio quello della concorrenza è meglio rispetto a quello che loro stanno facendo che è un approccio completamente diverso quindi li dovete spostare di piano non dovete parlare del vostro prodotto vostro servizio state pisciando completamente fuori dal vaso ma completamente perché il cliente con la mente è da un'altra parte se voi non fate queste domande non capite non capite parlate siamo migliori il cliente con la testa è da un'altra parte non è lì non è lì cosa ha detto il fornitore attuale quando gli hai fatto presente che non sei contento della situazione attuale mi ha detto che mi attacco percazzo ah interessante o così o po' mi nella media perché se no voi questa domanda ragazzi dovreste farla in generale ma prima e quindi quando facevo l'esempio prima della palestra per fare l'esempio tenere lo stesso esempio e quindi quando sei andato dal dietologo e hai dato questa dieta e non sei dimagrito cosa ha detto ha detto che in realtà io sono ciccione di merda che la notte mi mangio la nutella di nascosto perché cosa cioè cosa ti deve dire te ne da una te ne da due te ne da te dopo un po' ti deve accusare in realtà che sei tu in realtà che non ma oppure è vero e quindi tu non riesci a farlo non riesci a metterti a posto e quindi comunque cerchi un approccio diverso quindi solo con la dieta non ce la facciamo bisogna cambiare tutta una serie di cose quindi questo passaggio è molto importante vedete cosa vi serve questa domanda guardate com'è strategica mi serve per creare un noi contro vedete che lo fate da solo se il cliente se lo fate montare su se lo fate incazzare da solo fa tutto lui basta che gli fate le domande giuste non avete bisogno cioè basta e quando sei andato in quell'altra azienda quando sei andato in quell'altra agenzia cosa ti hanno detto eh mi hanno detto che mi attacca il cazzo mi hanno detto che è colpa mia perché bla 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 guardate che se voi lo chiedete i clienti vi rispondono mi hanno detto che è colpa mia perché io mi hanno detto che è colpa mia perché è mia moglie mi hanno detto che è colpa mia perché i miei dipendenti sono dei coglioni che guardate che le risposte delle aziende oppure mi hanno detto che non ci si può fare niente mi hanno detto che non è in garanzia mi hanno detto che non dipende da loro volete vado avanti cioè quante volte vi è capitato di fare queste domande in maniera informale e vi hanno detto queste cose cosa vi rispondono ragazzi i clienti se fate questa domanda e quando hai parlato con quello che ti ha venduto sta roba visto che non funzionano sei contento cosa ti ha detto eh ti ha detto che mi attacco al cazzo perché chi paga poco riceve poco bene grazie se fate questa domanda la trattativa è finita lì cioè il creare il noi contro di loro non è una cosa teorica fate questa domanda questa domanda è noi contro quelli la adattate un pochino ok la mettete giù in modo che abbia un senso compiuto per voi nel vostro store ma nella media è quella roba lì è quello ok quindi si parte da un livello superficiale e già sto creando affinità già sto creando autorità perché mi metto in una condizione dove faccio incazzare come una pantera il cliente semplicemente chiedendogli l'origine del problema e come è stato gestito fino adesso e che cosa gli hanno risposto quando ha provato a lamentarsi quindi io sono in questo momento non sono un venditore per lui sono l'ufficio lamentele gli consento di lamentarsi il problema benissimo ok poi c'è il pen di secondo livello ok il pen di secondo livello scende un pochino più un po' più nel concreto ok quindi abbiamo domande come da quanto da quanto questo è stato un problema per voi no abbiamo visto prima cosa avete provato a fare no ha funzionato quanto pensi che possa essere costato per esempio la tua struttura se parliamo di un'azienda in termini di opportunità o in termini di guadagni o quanto pensi minacci opportunità e guadagni o sprechi eccetera eccetera nei prossimi mesi questo è sulla base concreta esiste sulla base ovviamente anche emotiva è la stessa cosa la rigiri un attimo la domanda il concetto è quello ok cioè non ti è costato magari in termini di soldi no ma i soldi non sono un'unica moneta esiste un'altra moneta per esempio no ci sono tre monete di base sulle quali voi potete sondare sapete quali sono le tre monete di base sulle quali dovete sempre sondare le persone sono tre le persone hanno tre monete la più ovvia è il denaro la seconda è più importante della prima è il tempo il tempo vale più del denaro la terza è la salute emotiva psicologica di salute effettiva vera e propria che è più importante del tempo che è più importante del denaro sono tre tipi di monete quando voi andate a sondare il quanto ti è costato dovete sondare queste tre monete denaro salute tempo sono tutte monete con le quali le persone pagano non dovete solo pensare a 100 euro 1.000 euro 50 euro 10.000 euro dovete pensare a denaro è l'ultimo dei problemi dovete pensare a tempo cioè per un imprenditore ragazzi provate a pensare più una persona in realtà cioè il denaro è un problema normalmente uso una parola sbagliata per capire cioè per le persone povere il denaro è un problema perché ne hai poco e se ti tolgono quello fai fatica ad avere i beni di prima sussistenza cioè se io guadagno 1.000 euro e me ne togli 100 faccio fatica ad andare a comprarmi il pane quindi è un problema reale ma per una persona che è oltre la sussistenza il denaro miro del culo ma non è un problema io il denaro lo rimpiazzo più velocemente di quanto posso bruciarlo per me è un problema se mi rompi i coglioni sul tempo per esempio il mio tempo vale tanto ok il mio tempo non c'è denaro che possa ripagarlo tendenzialmente quindi se mi fai sprecare tempo settimane dietro una stronzata io ho aziende da gestire non posso stare dietro le tue stronzate se mi fai perdere tempo se ti dovessi fatturare il tempo che mi fai perdere ti assicuro che la fattura non ti piacerebbe ok peggio ancora la salute cioè se mi devo ammalare cazzo perché bla 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 ovviamente dopo non posso lavorare ok e quindi più la persona ragazzi è tra virgolette svincolata dai problemi del denaro più una persona è ricca più una persona sta bene meno il denaro è il problema reale tante volte più il problema è la frustrazione cioè a me se mi metti in una condizione emozionale negativa io sono storto abbiamo un problema perché in azienda sono tutti storti se mi fai perdere tempo in azienda abbiamo un problema perché tutti sono indietro con i piani di lavoro perché io non riesco a fare eccetera eccetera quindi salute è più importante di tempo tempo è più importante di denaro il denaro è molto importante per le persone che dipendono per la sopravvivenza da quel denaro ma tutti coloro i quali sono sopra la soglia della sopravvivenza professionisti imprenditori nella media un imprenditore non dovrebbe mai avere l'imprenditore stampa denaro noi con il marketing ragazzi stampiamo denaro io non ho problemi di denaro lo stampo ok era come John Lennon John Lennon diceva io non ho problemi di soldi perché quando ho bisogno mi siedo e scrivo una piscina cosa voleva dire voleva dire che io non ho problemi di denaro cioè nel senso se mi servono un milione io scrivo un pezzo lo lancio domani mattina e io ho fatto i soldi in tempo reale per noi è uguale io non ho problemi di denaro cioè mi metto a sedere faccio un lancio su un infoprodottino eccetera eccetera alla sera ho fatto centomila euro facendo niente con quattro email dico per dire dico per dire le cose voi è uguale cioè se imparate a fare un lancio di un prodotto eccetera eccetera imparate a fare marketing in maniera corretta stampate denaro il marketing è stampare denaro non è un problema il denaro al di là che poi rosico mi dà fastidio buttarlo per amore del cielo però mi dà molto più fastidio perché è un problema reale per me è più un problema reale il tempo ed è ancora più reale il problema di salute che il problema del denaro non compra la salute in realtà ok cioè può comprare strutture migliori ma se mi sono già ammalato comunque sono ammalato cioè nel senso quello è il dato ok ragazzi tre monete quindi quando siete qui scrivetevela questa cosa sondate le tre monete importanti salute anche psicologica non è che ammalato nel senso è ricoverato cioè la salute psicologica anche della persona lo stress l'ansia la demotivazione questa è una moneta molto importante una persona un imprenditore demotivato un imprenditore scoraggiato è un imprenditore che non funziona più porca puttana e del tempo non se ne fa niente se è scoraggiato e del denaro diventa il problema minore ok poi aprite ancora di più il problema c'è qualcun altro che si è lamentato per questa situazione quindi di questo problema a seconda di cosa vendiamo in famiglia c'è qualcun altro che si è lamentato i figli la moglie il marito in azienda c'è qualcuno che si è lamentato di questa cosa che non state gestendo i collaboratori sono arrivati quelli dell'ispettorato del lavoro e ti hanno detto che ti fanno il culo è arrivata la guardia di finanza perché tu non hai il bilancio in ordine e ti hanno detto che ti fa un culo così adesso o il tuo commercialista ti hanno detto che adesso con la nuova legge sulla crisi sul bilancio al 19 di dicembre ti aprono il culo come uno sbadiglio di balena avete visto una balena quando sbagliato quello è il culo che vi fanno dal 19 di dicembre in avanti ok non c'è da applaudire è un problema vero non c'è da ridere un cazzo c'è cazzo da ridere quindi cosa hanno detto i genitori i sindacati i parenti la famiglia l'ispettorato del lavoro la guardia di finanza la tua moglie cioè chiunque ok i tuoi figli riguarda c'è un problema difficilmente un problema ragazzi impatta solo su una persona nessun problema impatta solo su di me quindi su chi altro può impattare quel problema quel sogno quel desiderio eccetera eccetera ok ragazzi ma su qualunque cosa cioè anche sulle cose belle è uguale è sempre un problema cioè il sogno di farmi la vacanza della mia vita bene è uguale sono andato l'anno scorso ho prenotato con picchio rosso che cazzo ne so tu lo predo eccetera eccetera mi hanno promesso la vacanza straordinaria mi hanno mandato in un bungalow di merda con le zanzare non c'era un cazzo il bar più vicino era dieci chilometri ok tu sei incazzato ma in realtà qual è il vero problema il vero problema non è che sono incazzato io che mia moglie mi ha dato quattro bastonate in faccia e mi ha detto che la prossima volta cioè non è solo con me il problema io devo capire quali sono le casse di risonanza le casse di espansione di questo problema cioè chi altro è interessato seguendo alle persone alle famiglie avrà interessato qualcun altro della famiglia e se mi faccio dire chi altro è coinvolto chi altro si è incazzato faccio prima dopo a gestire il problema perché so con chi sto parlando stessa cosa quando sto parlando in azienda ho avuto dei problemi questo problema mi causa dei problemi solo personali ma o mi causa dei problemi anche con i soci con i colleghi con i collaboratori che sbuffano con i collaboratori che si lamentano ho anche dei problemi non solo all'interno dell'azienda ma all'esterno cioè in realtà se mi arriva un controllo se mi arriva quello se mi arriva l'ispettorato del lavoro se mi arriva l'ASD se mi arriva la guardia di finanza se mi arrivano quelli del controllo delle buste paghi come cazzo si chiama cioè quindi dove riverbera tutto questo problema tutto questo all'interno all'esterno ragazzi sono domande che devo fare se non le faccio è un problema poi per essere ancora più sicuro cosa pensi succederebbe per esempio se scoprissero tutto se tua moglie scoprisse che hai investito in bitcoin eccetera 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 e con quei soldi dovevate comprare la casa al mare e te li sei bruciati nel bambusetto secondo te cosa succede? che mi rompe il culo eh bravo nella migliore delle ipotesi nella peggiore nella peggiore e vi fa l'elenco quindi se va tutto bene sei rovinato se va tutto male potrebbe essere peggio era come il pugile come vado se l'ammazzi vai pari tranquillo era così quindi il concetto è arrivare al cliente a spiegargli come va se l'ammazzi vai pari quello è il come va ok quindi in generale ragazzi ci sono tutta una serie di problemi che sono all'interno all'esterno della famiglia all'interno all'esterno dell'azienda ok devo andare a sondare il più possibile vedete che è un pain di secondo livello già più profondo rispetto a quello superficiale del primo poi c'è il terzo livello terzo livello è ancora un po' più dentro è ancora un po' più pratico quindi per esempio con le domande di esempio quanto pensi possa costare la tua azienda se oggi tutti quelli che comprano X smettessero per esempio di farlo perché non avete questo non avete quello non avete quell'altro scoprono che il vostro prodotto è difettato scoprono che eccetera eccetera per esempio o come ti sentiresti a dover dire in azienda al capo ai colleghi ai dipendenti che non guadagniamo più a sufficienza e quindi ci saranno dei cambiamenti o come ti sentirai in famiglia ok a dover dire che in realtà ci è successo questo in realtà ma non siete assicurati quindi l'assicurazione non paga gli italiani per esempio sono tra le persone parliamo sempre sono tra i popoli più sotto assicurati perché pensano che in realtà pensi a tutto lo Stato in realtà non è vero la gente pensa ancora che siamo all'età dell'oro che vai in pensione con più o meno l'ultimo stipendio non è così tu oggi prendi 1600 euro di stipendio vai in pensione attualmente con 450 euro oppure hai una premorienza cioè nel senso tu muori la tua famiglia se dipende dal tuo reddito è in mezzo a una strada tua moglie o i tuoi figli ti capita un incidente vai in macchina non sei assicurato per la premorienza la tua famiglia è rovinata cioè tu vai in giro la tua famiglia è rovinata ti viene un'invalidità ok l'invalidità in Italia è retribuita pochissimo e stranamente non so se lo sapete ma è retribuita solo sopra il 66% di invalidità quindi dal 67% in su stranamente chi dovrebbe dare io poi vorrei sapere come si conta perché 67% mi pagano 66% non prendo una lira come cazzo è sta cosa? cioè che cosa vuol dire? e quindi ovviamente provate a pensare cosa succede la vostra famiglia per esempio dipende da voi e a voi non è che morite però vi capita un'invalidità che per mesi settimane anni o per sempre un'invalidità permanente vi impedisce di lavorare la vostra famiglia avete dei mutui avete debiti avete cose che dipendono dal fatto che voi andiate a lavorare tutti i giorni non siete assicurati smettete di poter lavorare per mille motivi di salute sei rovinato la tua famiglia è rovinata ti vengono a pignorare dopo dovete andare vada stragiando vi vengono a pignorare la casa e allora ve la vengono a togliere non gliene frega niente vengono a togliere la casa sbattono i vostri figli in mezza una strada e c'è proprio un problema di redditorialità perché le medicine tutta una serie di medicinali non vengono pagati dallo Stato come ve le pagate le cure allora hai smesso di provare a risolvere questa cosa ricordate da prima ce la siamo portati qua ok e qui vado ragazzi a livello più importante cioè nel senso scendo ok a livello più specifico vado sul senso di colpa come ti sentiresti se a causa di questa cosa alla tua azienda alla tua famiglia ai tuoi parenti a tua mamma a tua nonna capitasse X Y o Z eccetera 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 questo è molto importante quindi se a causa di questa cosa non gestita cioè gente della tua azienda se ne dovesse andare perché si rompe i coglioni se a causa di questa cosa non gestita dovessimo perdere reddittività se a causa di questa cosa non gestita la tua famiglia cazzo tua moglie si incazza se a causa di questa cosa non gestita c'è un problema siete veramente in mezzo alla strada perché eccetera 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 se devi mandare cazzo veramente tua moglie sotto all'ospedale di San Buceto e questa torna a casa morta un po' di senso di colpa ce l'hai perché non ti eri assicurata e l'hai messa in un ospedale di merda sotto casa con una sanità in Italia fallita dal 2011 cioè capite non è che voglio rompere il cazzo però è per capirsi cioè esistono delle implicazioni non c'ho bisogno di spiegare troppo il prodotto o il servizio si capisce da solo fa tutto da solo e quindi siamo qua ok quindi vedete abbiamo il nostro schema affinità l'affinità primo modello identificazione secondo livello domande andiamo a lavorare sul terzo livello che cementifica l'affinità ci sono tre strategie tre strategie molto belle molto importanti la prima si chiama le affermazioni empatiche cosa significa? significa che nel nostro ciclo di domande e risposte con la persona più che come avevo detto prima più che preoccuparmi di spiegare il prodotto dovrei preoccuparmi di fare costantemente affermazioni empatiche per conquistare livelli di affinità con la persona primo se io fossi nella sua posizione mi sentirei allo stesso modo o questo renderebbe nervoso anche me e o io chiederei le stesse cose che stai chiedendo tu e o sembra un somaro e o hai pienamente ragione o ad esempio io a parti invertite ok arriverei alle stesse conclusioni voi dovete imbottire ragazzi il vostro copy verbale quando siete in trattativa questa roba qua c'è della gente che è incazzata arriva e delusa è frustrata ok è diffidente anche magari all'inizio guarda che tu hai ragione io non me la prendo mica nel senso che io fossi non so nemmeno perché mi stai parlando oggi nel senso che se io fossi dalla tua parte non avrei mai più voluto avere a che fare con nessuno che faccia parte del mio settore hai ragione te io dalla tua parte chiederei le stesse cose romperei i coglioni nella stessa maniera e vorrei verificare le stesse cose perché c'hai ragione te nel senso da quello che mi hai raccontato te c'hai ragione nel senso sono già felice che non mi hai ancora dato un pugno in faccia nel senso che magari te la prendevi con me ti sfogavi con me ok perché è punirne uno per educarne 100 no in alcuni casi quindi questo è quindi affermazioni empatiche mentre parlo devo infarcire il mio linguaggio di questo tipo di affermazioni poi ci sono affermazioni di vicinanza quindi che creano ancora di più affinità quali sono alcune di queste affermazioni di vicinanza sono una traccia ragazzi poi voi capite il concetto ovviamente le usate in maniera libera affermazioni di vicinanza significa che anche io anche a me effettivamente è capitato o mi è capitato mille volte di gestire persone con questo tipo di problematica guarda non è proprio la stessa cosa però nel mio piccolo anche a me cioè aiuto a capire le persone perché l'errore che che si fa normalmente quando si parla con qualcuno è fare a gara chi ha le tragedie più grosse capitano nel senso che voi trovate qualcuno gli andate a raccontare una cosa no e no sai perché io con mia moglie ho questo tipo di problema tu non sai io ok no 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 non è quello il lavoro da fare non è quello il lavoro da fare è il contrario cioè è sminuire quello che è capitato a me per fare in modo che la persona si senta protagonista se io dico che quello che è capitato a me è più grosso o più importante sto togliendo i riflettori dalla persona io voglio che i riflettori rimangano su di lei ok quindi un'affermazione di vicinanza nel mio piccolo anche a me ok è capitata questa cosa non è grave come quello che tu mi stai raccontando però ti capisco mi metto nei tuoi panni cioè io già mi sono incazzato quella volta lì immagino come possa sentirti tu vedete ragazzi com'è semplice anche se non è esattamente la stessa cosa anche io vedete come sminuiscono me stesso per mettere in risalto l'altra persona però gli faccio capire che sto ascoltando ok che sono che capisco sono affermazioni di vicinanza lo so che non è la stessa cosa ti sto facendo un paragone che magari non c'entra però anche a me non è grave come quello che mi dici tu però arrivo vicino a capire una cosa simile mi capita quando non è proprio la stessa cosa però una cosa simile mi capita quando eccetera posso solo immaginare la frustrazione la delusione eccetera eccetera che hai tu solo questo mese tu sei la terza persona che arriva con questo problema vediamo se riesco a far felice anche te come ho fatto felice gli altri questo è il secondo livello terzo esporsi per loro il terzo livello è esporsi per le persone quindi è esporsi per iscritto quando scrivo le cose e dal vivo in difesa di qualcuno contro una o più minacce o contro chi non li aiuta o contro chi non li apprezza abbastanza quindi mi devo esporre contro minacce per i miei clienti o persone e associazioni e aziende che non li aiutano o persone e associazioni e aziende che non li rispettano o non li apprezzano abbastanza questo terzo livello non prendono seriamente in considerazione la gravità dei loro problemi non li ascoltano veramente eccetera eccetera o non rispettano i soldi che noi gli stiamo dando per tutti i motivi che abbiamo detto ieri quindi chi possono essere? possono essere persone ovviamente possono essere aziende possono essere partiti possono essere associazioni eccetera 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 in generale qualunque cosa questo sia quindi questi sono i tre livelli per generare affinità quindi abbiamo la macro categoria della fiducia il primo modo per creare fiducia e affinità per creare affinità ci sono tre livelli il primo livello è identificazione il secondo livello sono domande il terzo livello sono le affermazioni le affermazioni sono di questi tre tipi che abbiamo appena finito di vedere adesso quindi affermazioni empatiche affermazioni di vicinanza e affermazioni nelle quali mi espongo per loro vedete quante sottocartelle ragazzi ci sono più scaviamo più ce n'è da fare per creare questa autorità quindi questo diventa il nostro quadro dopo andremo a vedere il secondo modello per creare fiducia si chiama dimostrazioni fermo dove credi di andare te ne stavi andando senza iscriverti al canale vero? vedi di non farmi arrabbiare iscriviti subito e attiva la campanellina non vorrai mica perderti la prossima diretta con tutte le strategie utili per raggiungere il successo giusto? allora fai bravo iscriviti ora grazie a tutti 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 grazie a tutti